È tempo di elezioni amministrative in Sicilia con il governo Schifani che ha fissato le date per le urne di 129 comuni. L'esecutivo guidato da Renato Schifani insieme alla sua giunta ha fissato le date delle prossime elezioni amministrative nell'isola. Nei 129 comuni coinvolti si andrà al voto domenica 28 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15 con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 11 e 12 giugno. Le date sono state individuate su proposta dell'assessore alle autonomie locali Andrea Messina. La tornata elettorale coinvolgerà quattro capologhi di provincia Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Dei 129 comuni saranno 114 quelli nei quali si voterà con il sistema maggioritario perché al di sotto dei 15.000 abitanti mentre sono 15 quelli al di sopra di questa soglia nei quali si voterà con il proporzionale. Inoltre i cinque comuni sono attualmente gestiti da commissari straordinari di nomina regionale mentre uno quello di Barrafranca nell'Ennese è amministrato da una commissione prefettizia perché sciolto per mafia. Si tratta di una tornata elettorale molto importante per i 129 comuni solani, ha dichiarato l'assessore regionale Andrea Messina. I cittadini chiamati alle urne saranno infatti un terzo della popolazione siciliana. Questa volta le giornate in cui si voterà saranno due per via del ricepimento della normativa nazionale. La scelta è ricaduta sul 28 e il 29 maggio perché da un lato abbiamo voluto tener conto del calendario scolastico senza quindi penalizzare eccessivamente l'attività didattica e dall'altro abbiamo evitato di sovrapporre la tornata elettorale a celebrazioni nazionali e religiose. In provincia di Caltanissetta si voterà in cinque comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti, Delia, Milena, Montedoro, Riesi e Sutera. Nell'Agrigentino si rinnoveranno le amministrazioni di 14 comuni, fra le quali Ricata, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia e San Giovanni Gemini. Complessivamente sono 19 comuni della provincia di Catania nei quali si andrà al voto, incluso il capoluogo. Nell'Ennese sono nove, in provincia di Messina 33, mentre nel Palermitano si voterà in 25 comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti. In provincia di Ragusa si voterà in quattro comuni, compreso il capoluogo, mentre nel Siracusano la tornata elettorale coinvolgerà otto comuni insieme al capoluogo. Infine nel Trapanese si andrà al voto in 12 comuni.